Quella bolletta da 107.000 euro che mostra scadenza di pagamento nel giorno di San Valentino ha già fatto il Giro d'Italia. A postarla su Facebook due settimane fa fu la Sport Village di Pesaro, società che gestisce la piscina olimpionica del Parco della Pace e che si è vista recapitare un'utenza del gas con una cifra che è diventata la cartina torna sole del precario stato di sopravvivenza delle società sportive. Che hanno meno praticanti, hanno avuto meno giorni di apertura e ricevono bollette insostenibili. 107.000 euro contro i 37.000 dello stesso periodo dell'anno del 2019 per quel che riguarda la piscina pesarese. Andare avanti così è impossibile ed oggi è cominciato un confronto fra i gestori di piscine regionali e la stessa amministrazione Acquaroli per capire come si possa andare avanti. Parallelamente i consiglieri regionali del PD Andrea Biancani e Micaela Vitri hanno previsto una interrogazione dedicata alla previsione di sostegni economici che potrebbe già essere esaminata nel consiglio regionale di martedì. Quello che chiedo è alla regione di prevedere delle risorse a sostegno delle realtà sportive pubbliche ma anche private perché lo sport, il mondo dello sport sta avvenendo da due anni molto difficili. Due anni che a caso della pandemia hanno visto ridurre la quantità di persone che hanno continuato a fare sport e dall'altra parte si è anche ridotto il numero di giorni, di aperture, di giorni in cui era consentito fare sport. A fronte di queste riduzioni si ha un aumento dei costi di gestione. In particolar modo la mia richiesta è rivolta per quelle realtà sportive che gestiscono degli impianti, in particolar modo le piscine, le stesse palestre, i campi sportivi, cioè tutte quelle realtà sportive che hanno costi elevati di energia o legate al gas o legate alla corrente elettrica. Quindi la richiesta è che la regione si faccia carico di prevedere delle risorse a sostegno delle realtà sportive perché lo sport è importante. Risorse che ovviamente non devono andare come dire essere alternative rispetto a quelle che lo stato riuscirà a mettere in campo ma devono essere risorse aggiuntive. Grazie a tutti.